e rieccoci su radio web in volo in diretta sulla nostra pagina facebook questo è un nuovo episodio live di sound marino e siamo insieme oltre che a un grande artista san marinesi anche un grande amico ricordavo prima che la prima volta che ho registrato qualcosa davanti a un microfono radiofonico è stato un'intervista con lui al telefono il nostro per matteo creatoni grazie per essere qui con noi grazie a voi dell'ospitalità ciao a tutti dunque io ho saputo che appunto ci sarà a breve appunto un evento il 21 agosto chiamato pertina sì che praticamente vedrete e altri quattro artisti di san marino che dichiaramente si tratta di un concerto dedicato appunto a san marino insomma sì siamo inseriti all'interno di questo calendario estivo più più ampio che si chiama appunto copertina e la serata nostra chiamata united artists for san marino è composta da cinque realtà san marinesi tra cui il sottoscritto allora ci sarà i roll i drumness il turbetto e gli alibi io come credo anche tutti gli altri ho ricevuto l'invito da parte di michele zanotti dei drumness che è stato un po il la mente no dietro a questo progetto se non altro dietro a quello relativo alla serata specifica di cui faccio parte mi ha invitato io ho accettato più che più felicemente più che volentieri ognuno di noi farà una mezz'ora di set che dire io sarò da solo chitarra e voce quest'anno ho scelto di percorrere questo binario molto cantautoriale ci sarà poi la possibilità nel campo bruno repi di fare picnic con dei 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 ristoranti partner che forniranno il cibo e speriamo che sia una bella serata ringrazio michele per avermi invitato in quanto è c'è una uno spirito anche una motivazione diciamo così sociale no dietro a questa questo invito e a questo piccolo progetto a questo evento ovvero quale dare un segnale di ripartenza dopo il lockdown dopo tutta la vicenda recente di cui noi conosciamo bene i dettagli in particolare quella serata lì nello specifico del 21 agosto è una sorta di voce corale degli artisti di san marino che hanno risposto all'appello e che quindi fanno sentire la loro musica la loro presenza certo adesso state vedendo quello che è il volantino di questa serata appunto del 21 agosto mi rendo conto che non si vede granché ma poi a fine di questa live vi metteremo nei commenti e anche sul gruppo noi sintonizzati su radio web in volo e tutti i dettagli vi posteremo un'immagine con tutte le serate perché sono varie serate appunto sì guarda io per non sbagliare leggo direttamente da facebook saranno 16 serate dal 19 luglio il 27 agosto tra cinema teatro musica con picnic al tramonto in tre location uniche e uno spettacolo da guardare le tre location sono la cava dei balestrieri gli orti borghesi e il campo bruno respi dove si terrà il nostro evento quello del 21 agosto appunto tanta roba sì decisamente un bel calendario tantissima roba davvero avete appena fatto uscire come lotus dei videoclip e di canzoni tra cui anche l'abbiamo postato ieri la canzone ora che non è tardi di samuele mazza vorrei raccontarci un po' bene cosa avete fatto proprio in quest'ultimo periodo volentieri qui ti do una risposta da produttore artistico diciamo di questi tre ragazzi che per un caso per una coincidenza escono in una in un periodo molto breve è stato se non sbaglio è stato se non sbaglio venerdì domenica e oggi quindi quasi tre giorni consecutivi e si tratta di nell'ordine devin un nuovo artista della nostra scuderia lotus music production al suo esordio come solista dico al suo esordio come solista perché devin ha già una sua storia come cantante di una band a metal lui è un cantautore ha composto musica e parole io gli ho arrangiato il brano per quanto riguarda samuele invece è uscito ieri domenica al mezzogiorno di fuoco di domenica in quanto il suo video era ricco di cittadini western è uscito appunto ieri con ora che non è tardi una cover di Enrico Nigiotti di cui ho fatto l'arrangiamento hai messo anche il fischiettio quindi si è via la western esatto i suoni vocali e i fischiettii sono miei e oggi è uscito il nuovo brano di Matteo Codiglione che è un cantautore di Pisa che ho il piacere di seguire come partner artistico è sentito La Futura 2.0 è un brano come peraltro anche gli altri due che vi consiglio caldamente di sentire un nuovo tipo di collaborazione che è scattata fra me e Matteo dove lui oltre a curare testi e musica come sempre ha anche collaborato all'arrangiamento quindi abbiamo fatto una prodottione artistica a quattro mani anche i sei perché c'è anche un chitarrista che io non conosco però di cui ho ricevuto le tracce quindi conosco le sue opere, le sue chitarre non è la prima volta che lo sento per Matteo Codiglione in realtà anche a livello radiofonico non lo so adesso si è molto probabile perché con lui abbiamo già pubblicato un album intero quindi fatto anche di molti singoli che hanno avuto esposizione anche a San Marino perché noi prima di questo malaugurato lockdown avevamo anche una rubrica fissa a San Marino RTV dove Matteo è passato diverse volte quindi sarà capitato sì, sì, probabile, sì, su Lotus Lounge esatto con il nostro Mirko Zanni che salutiamo salutiamo Mirko va bene, io in chiusura a parte che ultimamente non ti ho chiesto se volevi dirmi anche la scaletta dei pezzi che farai eventualmente volentieri, magari non la spoilerò tutta però sarà sicuramente una scaletta che che attingerà da tutti i miei album quindi ci sarà materiale da pagine strappate San Tommaso nello spazio, Mala Aurora e Calipolis saranno sei brani tirati perché a mezz'ora non c'è tempo da perdere tutti quanti uniti da questo arrangiamento essenziale minimale di chitarra e voce che riporta un po' tutte le produzioni alla loro radice non trascurerò nessun disco questa volta anche perché non ho proprio voglia di fare un po' questo viaggetto negli anni, nel tempo certo quindi invece potete i futuri perché mi hai detto che hai, diciamo, degli arretrati diciamo, da questo lockdown, ecco eh, purtroppo sì a me come a tutti gli altri il resto ci ha tagliato un po', tolto un po' il terreno sotto i piedi perché quest'anno, il 2020, doveva essere un anno dalla duplice importanza per me come cantautore in primo luogo dovevamo pubblicare Calipolis inteso come film quindi più che pubblicare, proprio proiettare avere l'evento in una sala cinematografica con la band che suonava dal vivo tutto il materiale musicale e non dimentichiamo che tutta la seconda parte di Calipolis è inedita quindi era ancora una produzione nuova e che ci aveva occupato nel suo complesso due anni di lavoro e tanti investimenti ed energia e quant'altro e purtroppo ce la siamo visti sfumare in maniera abbastanza triste e in questo momento non siamo ancora in grado di formulare la nuova data anche perché ora io non voglio assolutamente fare il virologo della situazione né il sociologo né il Nostradamus però non vorrei neanche mai ritrovarmi nella situazione di mettere giù una data e di vederla annullata per una seconda volta consecutiva causa covid perché sarebbe abbastanza tragico dal punto di vista mio psicologico e quindi per il momento teniamo duro e cerchiamo di noi abbiamo proprio congelato il progetto questo vuol dire che non lo stiamo nemmeno più pubblicizzando perché non vorrei mai correre il rischio di inflazionarci e di parlarne troppo e parlarne e basta tra virgolette non avendo la possibilità di mostrare il lavoro speriamo che il 2021 sia l'anno buono oddio forse un barlume di speranza c'è anche per il 2020 ma non mi posso proprio sbilanciare non lo farei onestamente sinceramente l'altra cosa ancora più ancora più tragicomica perché aveva una scadenza in quanto decennale mi spiego meglio io quest'anno dovevo festeggiare i miei dieci anni di produzione discografiche perché come cantautore sono nato nel 2010 con pagine strappate nel 2020 con Calipolis faceva decennale e avevo ed ho il progetto di riarrangiare dieci brani simbolicamente no? sui dieci anni sempre tratti dai miei cinque dischi quanti sono? i miei quattro dischi in una versione acustica un po' raffinata fatta tra l'altro e questo lo posso già spoilerare con Fabio Casali che oltre ad essere mio cugino è stato il mio primo insegnante di chitarra era nella mia band ai primi tempi come corista eccetera è un bravissimo chitarrista che ha già fatto gli arrangiamenti che però in questo momento sono fermi ai box perché ci vuole tanto tempo in termini di post produzione tempo che pensavo di investire in mesi che poi sono sfumati per altre cose per altre ragioni e anche in questo caso l'idea di mettere giù delle scadenze per un progetto che in questo momento è un po' sullo scivoloso no? non mi ha entusiasma anche se a differenza di Calipolis che se esce nel 2021 non succede niente fare il decennale 2021 al posto del 2020 fa un po' sorridere però diciamo che la giustificazione ce l'abbiamo non è stato un piccolo mal di pancia a mio personale certo ma mi fai pensare questo ma invece con i Satanax perché dovete sapere che prima che eravamo iniziato con una band chiamata Satanax ah certo quando è che avete iniziato magari riusci a compensare? allora io mi ricordo l'unica cosa che mi ricordo bene è che il primo concerto l'abbiamo fatto nel 1999 quindi fai due calcoli sono 22 anni ok si poi una decina d'anni dopo più o meno è partita tutta la macchina solista ok non sarebbe un 22 annale anche per quello come inizio di carriera musicale dovrei riprendere in mano un po' le tecniche di chitarra metal che non so se ho molto forse sono un po' arrugginito da quel punto di vista no però dicevo proprio dal punto di vista di anni magari si riusciva a trovare un comunque ho preso per dire comunque il 22 annale quindi quello ah può essere una strategia tra 3 anni fai il 25 annale tra 4 anni infatti eh oh sarà un undicennale partenza partenza dai noi ti facciamo il bocca al lupo e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito ringrazio te pierma ah grazie mille a voi come sempre e ci salutiamo poi come dicevo mettiamo qui nei commenti e sul gruppo la scaletta appunto di questa copertina di questo evento che ci sarà appunto nel centro storico di questa serie di eventi io personalmente mi sentirei anche di mettere qualcosa sempre sul gruppo noi siamo iniziati su radio web in volo quasi quasi metto fai danza oh bravo ci sta ci teniamo su un po' di morale mentre facevo l'immagine per la live di oggi mi te l'avevo in testa proprio a ruota mi piace mi piace assolutamente e quindi grazie per averci seguito come sempre e buon proseguimento su radio web in volo ciao 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 ciao